Grazie a voi, buonanotte. Cresce la voglia degli italiani di fare colazione fuori casa, ma comunque di andare al bar e per molti anche di mangiare, quindi segno che se non ci si porta più il panino da casa o comunque in molti riescono ad andare fuori a pranzo o non usano i buoni pasto per fare la spesa ma per mangiare, segno che insomma c'è una fiducia diversa nel futuro e questo è in dubbio. Che cosa succede però? Diciamo che i bar hanno sofferto un periodo di difficoltà piuttosto lungo, quindi dicevamo la contrazione dei consumi era incominciata nel 2008 e l'inversione di tendenza si è vista soltanto sette anni dopo. Ecco in questi sette anni si sono ingegnati come meglio potevano per cercare di risalire la china, quindi con grande difficoltà naturalmente i margini di guadagno sono diminuiti anche perché il costo delle materie prime, tra l'altro adesso sembra che anche il caffè debba aumentare di prezzo e quindi potrebbe aumentare anche il costo della tazzina di caffè e comunque più in generale possiamo dire che i pubblici esercizi non è che se la siano passata troppo bene, mi riferisco soprattutto ai bar. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.